Una milonga dorata per stringere in un abbraccio i bambini che combattono il cancro. Questa è la finalità dell'iniziativa organizzata dall'Associazione Arcobaleno Marco Iagulli di Battipaglia per domani, sabato 27 ottobre, presso l'auditorium dell'Istituto Ferrari. L'obiettivo è far sentire la vicinanza ai bambini e agli adolescenti in lotta contro il cancro attraverso il tango. L'iniziativa organizzata dalla FIAGOP nasce dall'idea di utilizzare tale ballo per toccare le corde della solidarietà insite nel cuore di ciascuno di noi. Per dimostrare sostegno alla causa in modo visibile e riconoscere apertamente la forza, il coraggio e la resilienza dei bambini e degli adolescenti che combattono tumori e leucemie, gli alunni della scuola Ferrari indosseranno il nastrino d'oro, simbolo dell'oncoematologia pediatrica.